Apprendiamo con soddisfazione che il settore pubblico e istituzione del comune di Ragusa ha provveduto alla revoca del servizio di refezione scolastica nei confronti della ditta Stefano S.R.L., un atto dovuto per tutelare la salute dei più piccoli, lo ha dichiarato il portavoce di Laboratorio 2.0, candidato sindaco Sona Migliore, che aggiunge anche come già tre anni fa, si erano verificati con questa ditta casi particolarmente gravi che avevamo segnalato e a causa dei quali ci siamo battuti perché venisse sospeso il servizio. Invece l'amministrazione grillina precedette perfino a nuove proroghe, per questo è stato possibile che a una gara d'apparto per un servizio così delicato partecipasse un'azienda già tristemente famosa per le sue inadempienze. Quello che preoccupa inoltre continua a migliore il futuro. Si farà un'altra gara perdendo molto tempo, dice, o si procederà ad affidare alla ditta col punteggio migliore da quelle che avevano partecipate alla presente gara? Per quanto ci riguarda poi abbiamo idee ben chiare di come dovrebbe funzionare il servizio, si rimarca ancora da Lab 2.0. Per questo abbiamo inserito nel nostro programma l'intenzione di fornire alle scuole di cucina dove preparare i pasti per i bambini, eliminando quindi i problemi che riguardano il trasporto e il mantenimento del cibo, anche in modo da dedicarsi, conclude la migliore, con maggiore attenzione alle diete speciali che alcuni bambini devono seguire.